WAHEKUCHI! Benvenuti da vostro androide incriminato in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch 3 Oggi andremo a fare qualche missione extra Ci sono tantissime missioni da fare, le farò tutte, bene o male Però, prima vorrei fare questa qui, sarà molto importante, la faremo in un altro momento Vorrei fare questa qui, questa che penso sia di Kyuubi e questa qui che è di Velenotto Oggi faremo questa qui al 100% L'avversario è più forte, le Yo-Kai spaventose sono stati avvistati in città Dobbiamo cercare informazioni e stare allerta Andiamo ad accettare la missione di Velenotto A meno che poi non ci sia anche Kyuubi e l'altra della Volpe è un'altra missione ancora Non lo so, poi vedremo Le Yo-Kai terrificanti sono stati avvistati in città Oh davvero, che tipo di Yo-Kai potrebbero essere? Perché sembri felice? È ovvio che il Velen è felice Per riettagli che gli accliente di fronte all'albero sacro del Monte Selvoscura Ok, andiamo Di fronte all'albero sacro del Monte Selvoscura Ok Eccolo qua Da quello che ho capito Per fare la terza missione di Katie Girovagando un po' Non è attivata Da quello che ho capito bisogna fare Prima questa missione E quella di Kyuubi Questa è sicuro E poi anche quella di Kyuubi Però quella di Kyuubi non sono sicuro C'è sempre un margine di dubbio, no? Ecco Velenotto Sì, credo che sia proprio Obbligatorio Wow Si vede Si vede anche qui Sì, la linea di demarcazione della mappa Che brutto No, perché vi fate questo? Vabbè, qui c'è Velenotto Io ciao Siamo dell'agenzia investigativa Conan L'investigatore del mistero Da notare il tema di Velenotto Che è uno dei più belli di Kyuubi Watch 3 Cioè di Kyuubi Watch in generale Non di Kyuubi Watch 3 Ah, siete venuti Sì Ora ci vuoi dire di che diamine si tratta? Secondo tre testimonianze Dei Kyuubi terrificanti Sono stati visti in città Il primo è uno Kyuubi Occello che confonde i nemici Con delle strane mosse Ok Perfora il cuore dei nemici Col suo becco affilato Quanto un coltello Non va bene Perfora il cuore dei nemici Hai Fa male solo a pensarci O perfora Perfora? Perfora? Perfora Perfora Ok Uno ha ricoperto i pugni Di livi e tagli Se c'è che i suoi pugni Sono ricoperti del sangue Delle sue vittime Yokai Ricoperti di sangue Quanti Yokai ha attaccato Il terzo Un yokai che mette i nemici all'angolo Gettandoli nella disperazione Quando vedete le loro facce terrorizzate Prova un fremito di gioia Ah Un fremito di gioia Diamine Questo sembra peggiore di tutti Vorrei che verificaste Se e quale di queste testimonianze È reale È un incarico pericoloso Se non ve la sentite Posso chiedere a qualcun altro No Gli veri detektivi Non rifiutano mai Gli incarichi Cosa? E da quando c'è questa regola? Ci pensiamo noi Svolgeremo un'indagine accurata? Bene Lascio fare a voi allora Ma se non ve la sentiste più Siete obbligati a continuare Non suona per niente bene Lo sappiamo Non fare i fifoni Andiamo E che Tad La vita non è la tua È la mia Ma però Devo capire Chi sono queste persone Dove si trovano? Quello che so È che devo andare alla rinfusa Fin Finché non le trovo Ma Ehi Ce n'è uno qui Don-chan Wow Cosa? Sento puzza di guai Don-don Sono Don-chan Sei tu La famosa redactiva Un incarico per te Eccolo qua Vieni a divertirti con me Al mio festival E come hai detto Forza Seguiamo il ritmo del divertimento Don Ma no Deciò da fare Beh potrei anche Recutarlo Visto che ho i frutti Proibiti Quindi verrebbe di sicuro In squadra Oh Questo è Il monte Selvoscura C'è un festival Di pieno svolgimento Ma Ci sono ordini Don-chan Don-don Benvenuti al festival Di Don-chan Il festival Continua Fin sul santuario Del selvoscura Don Don-don Vi stavamo aspettando Devo per forza Oh Quindi Volete combattere Certo E tu No Avantiamo il ritmo Don-ah Perché urla All'improvviso Vuole diventare Super Saiyan Vediamo un po' se sono reclutabili I doncianini Non sono neanche reclutabili Allora Potevate dirmelo no? Almeno Facciamo prima se lo sapevo Alto bene 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 E uno è andato intanto Bostro io ho pure questo Andati ora posso tornarmene a casa mia? Vorrei fare la missione di Velenotto se non vi dispiace Il mio yokai preferito oltretutto E' stata una battaglia con i controtempi Combattiamo di nuovo domani Solo una battaglia al giorno Don Ehi frenate E così se ne va la nostra unica possibilità Di scoprire come tornare indietro Allora come facciamo a uscire da questo festival? Eccomi qua Allora detective vi piace l'atmosfera del festival? Oh è tornato Ehi fammi capire Tu sei il doncian che ci ha portati qui? Se così sarebbe cortese dirci come diamine Facciamo uscire di qui Grazie per essere venuti a festival Doncian Beh tecnicamente Sei stato tu a portarci qui Tu sei il cliente vero? Don Don Già volevo farvi divertire a festival Quindi ho deciso di invitarvi La parte del limite non è andata male Ma che dici della parte del ritorno a casa? Di che parli? La notte è ancora lunga Don What? Il ritmo batte forte Don 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 Non mi viene voglia di ballare Wow Ma che La mia volontà non può nulla Contra questo ritmo incalzante Il potere di Don Ceno è davvero formidabile Sconigliato È davvero l'intenzione di ballare? Non si viene a un festival senza ballare Don Don Cominciamo Don Devo ballare ora? Devo fare il giochetto che si balla? Uuuu Wow Non ero pronto per niente Come al solito Non ero pronto per niente 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 A parte, vabbè, le prime due che ho mancato, vabbè, quelle sì, ma Era un cliente questo, non ho capito se questo era uno di quelli giochi da trovare Tutto fatto In tutta la storia dell'umanità penso che nessuno abbia mai ballato così Wow, che mosse, great Per Giove e Saturno, quanti dungeon ci sono? Ci vedo centuplo Don, sbagliato, ce n'è solo uno Wow, cosa? Avete combattuto contro tre emme del passato, Don Grazie a Trispecchio ho recuperato di me del passato attraverso lo spazio-tempo Well, è una mossa temeraria, c'è da ammetterlo Passatela a me ogni volta che volete scadenarvi, tanto mi trovate qui Allora, come torniamo a casa? Non ti preoccupare, non sbagli un colpo, Don Andate a parlare con Trispecchio, vi aspetto avvicino alle scale Si ha reso grazie a tutti i corpi celesti È stato divertente, dungeon, se non ti dispiace torneremo a trovarti Ma che, ma non ci volevo venire io qui, veramente Niente, è diventato un episodio con due missioni questo, va bene, dai Non ci credo Vai, è la seconda volta che prendo quello d'oro sulla ruota bonus Ecco qua Trispecchio Si torna a casa? Andiamo Vai, Dali, si torna a casa Però dai, alla fine ce la siamo spassata Nel caso mi venisse voglia di ballare ci farò un pensiero Questa è la festa che c'è stata in passato Quando eravamo su Yokei Watch 2 Molto probabilmente Bene, ora andiamo a cercare questi tre Yokei malfattori Non dimentichiamoci che la ginnastica è molto importante Con Nate dovrei arrivare fino al... Con lei solo uno? No, sono arrivato a due con lei Oh, che è successo? Ah, forse è quando non ho salvato Sì, che dopo ho spento perché volevo fare video Vabbè, può succedere che qualche volta Mentre esploro poi non salvo Perché ho scoperto qualcosa di interessante e mirabolante E poi invece non è nulla E va bene allora Con il personaggio maschile Con me medesimo Sono già a due Ma dove devo andare? La scintiglia sicuramente Perché poi anche vai non ti dici dove devi andare Quindi aspetta allora Facciamo prima gli altri due Ok, uno Yokei è la panetteria L'altro sicuramente è la col di brezza Ma ovviamente c'è la freccina Questo sarebbe uno di quelli Yokei? Ehi, quello non è lo Yokei violento Che presenta sempre tagli e libidi? Sei sicura? A me non sembra tanto un duro Guarda quei tagli e libidi Però uno che ha combattuto e vinto tante volte Accidenti, un corvo mi ha beccato Dice che è stato beccato da un corvo Ma guarda I sepugni hanno il colore del sangue Ah, ok Quindi era solo il colore Sta solo indossandoli quanto mi da puggire, no? E io ci rinuncio Mi hanno di nuovo fatto a pezzi Un totale di novantanove sconfette Su novantanove incontri Non ha mai vinto? Non c'è dubbio Questo è uno di Yokei di cui stavo parlando Velenotto Ma è così diverso dalla descrizione Non perderò anche il centesimo incontro Combattiamo E cosa? Vuole perdere allora Beh, la missione richiede un livello 50 Quindi immagino che il nostro amichetto sia abbastanza Forte Volevo caricare per farlo spostare ma Ho visto che non Non è necessario farlo Ed è molto debole Era praticamente impossibile perdere contro di lui No, ma era solo il primo Sono sicuro che gli altri saranno più forti Galattico Facciamo attenzione Ok Dato che io potrei spostarmi velocemente da un punto all'altro Vedrò In quale stazione c'è quello Yokei Che ci serve Da prendere il treno per affrontarlo Eccolo Infatti uno è qua Ah, ma è questo qua sopra? E' tentennante A questo punto prendiamo l'elicottero E andiamo lì sopra la stazio Lì sopra il palazzo Buono, buono Abbiamo quasi fatto Dai E' faticoso Non risponde per niente ai comandi Tornate presto Ma mi butta l'acqua sopra Pur di non incontrarti Quello non è il tuo cagher Metti nemici all'angolo Gettandole nella disperazione In effetti sta fremendo Ma non mi sembra che sia per la gioia Ah, sto cadendo, sto cadendo Più che giuterà gli altri nella disperazione A lui a essere disperato Perciò sta fremendo di paura Don't worry, ci siamo noi qui con te Eh, che Fermi, non mettetevi in mezzo What? Ah Ci avevano detto che fremiva di gioia durante le battaglie Ma forse stavo solo tremando dal brivido dell'essere inbielico What? Secondo me gli manca qualche satellite Chiama la palizia Non mettetevi in mezzo Se lo farete la pagherete cara Alla larga Ma che fa? Ci attacca Ma come si vuole buttare Poi ci attacca Ma che problemi hanno questi yokai Io non ho ancora cambiato l'oggetto a Imaginix Non capisco che problema c'è a Imaginix Non capisco Devo vedere i suoi Il suo equipaggiamento Perché non va bene Esperienza 1 Dammi 0 direttamente Ma anche questo era deboluccio Ma almeno l'ultimo sarà come l'hanno descritto Lo spero Finora sono stati così deludenti Bene L'ultimo è qui al museo di col di brezza Vediamo un po' Che bella mostra E lui ha l'uccello Che fa confondere tutti Quello non è l'uccello Che confonde i nemici Con delle strane mosse Aspetta cosa? Eh potrebbe Ha il becco affilato vero? Pio Pio Non è affilato Ma sembra più arrotondato Vedo Perciò le strane mosse sono Gira Gira Pio Questa specie di barco lì Non l'ha descritto proprio così Ma probabilmente Vole di notte Stava parlando di questo yokai Sembra piuttosto debole Pio Pio Mi gira la testa Aiutatemi Sta venendo da questa parte Eh che pericolo Yeee Le nostre indagini su tre yokai è conclusa Già E ne abbiamo anche sconfitti Di risolvere il caso Erano davvero deboli Sono piuttosto deluso Vabbè Comunque dobbiamo andare a dirlo a Veglianotto Signor Veglianotto Cosa ci dice in merito? Veglianotto abbiamo concluso l'indagine Che ne è stato le tre yokai Non erano affatto una minaccia Davvero? In realtà L'abbiamo sconfitti tutti Sì Cos'è fa Quello della stellina Sconfitti tutti I tre yokai terrificanti Beh ecco Le voci sui loro conti Non erano proprio esatte Fantastico Dovete essere davvero potenti No Ma mi sta ascoltando Nuovo incarico Avanti Combattiamo What? Nuovo incarico Ma può farlo? Il verde taklip Non rifiutano mai gli incarichi Non l'abbiamo scelta Accettiamo Immagino sarei stanca Dopo le tre battaglie Torna quando sarai pronta Velenotto Lei è un signor yokai Allora Puoi affrontarmi in battaglia? Niente più interessante Di affrontare qualcuno così forte Metticela tutta E mostrami tutto il tuo potere Sì Mi aspettavo che alla fine Ci sarebbe stata questa lotta Dato che Nivello 50 Insomma Non posso neanche dargli da mangiare Uffa Mi piace il pesce Sapete che c'è Andiamo direttamente Con l'attacco totale Con la pistola prima Facciamolo con la pistola Misterioso Lui è Sfuggente Non ricordo Che affinità Misterioso Con sfuggente Molto buono A quanto pare O è debole lui? Vediamo un po' ora Quando lo attacchiamo Robonian Anche è debole C'è qualcosa Che non mi riporta Vabbè è andato Quindi dobbiamo affrontarlo Finché non diventa Nostro amico Wow A quanto pare Tu potere è davvero notevole È stata una battaglia interessante Prendi questa medaglia Come ringraziamento Ok Auto befriending Perfetto Il mio yokai preferito Non saprà Non saprà se metterlo in squadra Perché O meglio Sì Metterlo in squadra Quando giro per conto mio Sì Però per la torre d'aruma Ci vuole qualcosa di più Davvero potente E già so chi mettere Continuerò a combattere In cerca di avversari più forti Arrivederci Niente Proprio non gli interessa Sapere la verità Dove diamo il raccolto Con le testimonianze Tutte esagerazioni Che importa È stato stancante Ma almeno abbiamo ottenuto La sua medaglia Se lo dici tu Che strano Questo testo Fuori dalla lotta Però Sì Va a completare Un po' Quello che è la missione Però Sembra che ci debba essere Qualcosa di più Che però non viene detto Non capisco Mi lascia lì con Con il Ok sì Ma dimmi di più Cioè Capito Mi lascia quel senso Di vuoto dopo Eh vedi Non c'è più niente A parte che Lo yokai world A questo punto Non è più Quello che conoscevamo Adesso puoi cenare E fare lotte Una cosa del genere Facciamo qualche slottata Per finire l'episodio Pulisciogun E quella Il primo mi mancano Ecco Ti pareva Ah pulisciido Non pulisciogun Pulisciogun È quello con L'evoluzione Sì 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 Ok pulisciido Possibilità Primo premio Aumentata Non è vero mai Nella vita Perché non è La rotasogno Questa Scarafante Certo Avrei bisogno Di anima Del generale Però Non ce l'ho Scarafante Ogni tanto Qualche slottata Della Della slot Kai di Val d'ora È bella Farla Incappal Certo È un po' strano Che escano I yokai Che non sono Americani Cioè che Sono americani Perché in teoria Da rotasogno Dovrebbe far uscire I yokai americani E questa di Val d'oro I yokai Giapponesi Velo minimo Interessante Non ce l'avevo Velo minimo Oh usa il karate Mi ero letto Come usare Questi libri Abbiamo ottenuto Anche la medaglia Del nostro Yokai preferito Il mio Yokai preferito Velenotto Voglio solo Andarla a vedere Livello 50 Mi piace Mi piace Morso di Raniante Alta tensione Velenizione Aumenta la velocità Di un letto Sotto l'occhio Mi gira di Velenotto Morde ripetutamente I nemici Nell'aria Con la sua Sharpa Drago Morso multiplo E Beh si E' forte Però per la tour d'aro Ma come ho detto Mi serve altro Bene Cugio Questo video Termina qui Io come sempre Vi ringrazio per averlo seguito Vi ricordo Vi darò un'altra In descrizione Per la pagina Twitter e Instagram Tra poco Quella di Twitter Se ne va Rimarrà solo lì Come un vecchio ricordo Vi ricordo ovviamente Di iscrivervi al canale Nel caso ancora Non foste iscritti E noi ci vediamo Come sempre A prossimo video Bye 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 Grazie a tutti.